Avete mai sentito dire quel che accade a Las Vegas resta a Las Vegas? Sì? Beh, è una cazzata. Era un copy pubblicitario. Avete presente quelle battute sfigate degli spot in tv? Ecco, ne scrivevo io. Basta con queste idee di merda! Noi non facciamo cinema. Chiaro? Pazzissimo! Passo come un cavallo! Impotente! Cazzo! Dov'è il ciccio? Non sono io, eh! È uno che mi somiglia! Non avrei mica chiesto aiuto al Cagliari. Questa non è gente a cui chiedere favori! Non fanno niente per niente! Cagliari. Vieni per vincere, baby! Vai, cavallo valore! Dobbiamo derubare uno. Cosa? Vieni per la tua ass! Che cazzo è successo? No! Ce lo vuoi dire o no? Come hai fatto a fottere Vegas? Anto, dove sei? Oh mio Dio! Assomiglia a quello dei Club Dogo! Ma vaffanculo!